Metalmeccanici, operai ed edili hanno incrociato le braccia in tutta Italia contro la continua strage nei cantieri e nelle fabbriche. Ogni giorno in media sono tre i morti sul lavoro. In un anno la cifra da bollettino di guerra sale a mille vittime e anche febbraio è iniziato decisamente male con 40 lavoratori deceduti in 15 giorni. La carneficina nel cantiere di Firenze ha riacceso i riflettori su un fenomeno in continuo aumento legato, denunciano i sindacati, al sistema di appalti e subappalti che vuol dire una continua corsa al ribasso ai danni della sicurezza e dei salari. La CGL chiede di ridurre la filiera del subappalto. Questo governo ha sbagliato totalmente nel liberalizzare completamente i subappalti. Oggi noi andiamo in alcuni cantieri e vediamo 30, 40, 50, 100, 150 aziende in subappalto ma anche chi deve fare i controlli ma come fa a fare una cosa del genere. E ogni azienda che è in subappalto è un elemento in più di pericolo. Immaginate lingue straniere che ogni volta si debbono incontrare perché lì ci sono lavoratori da tutti i paesi. La organizzazione del lavoro e soprattutto massimi ribassi. Questo porta purtroppo agli incidenti, non solo quelle di Firenze, perché purtroppo di incidenti mortali ce ne sono tantissimi. E questo è frutto di una volontà sempre di deregolare che al contrario di velocizzare perché poi quando si verificano queste tragedie si blocca tutto. Sarebbe molto più intelligente dare un po' più di attenzione a tutti questi elementi e alla sicurezza, prendersi i tempi necessari, evitare i massimi ribassi perché c'è ancora la pratica del massimo ribasso. A me vedere il ministro che è andato a depurre i fiori ieri e che però è lo stesso che ha deregolamentato non è che ha fatto proprio piacere. Forse la reazione della Lega è stata proprio scomposta nei confronti della CGL. Allo sciopero indetto da CGL e Will hanno aderito anche i portuali di Civitavecchia che hanno ricordato il giovane Alberto Motta morto schiacciato da un container esattamente un anno fa. La CGL chiede una maggiore applicazione delle regole che ci sono, un maggior coordinamento soprattutto con l'autorità di sistema portuale. I porti sono generalmente attività molto sensibili da un punto di vista della sicurezza perché purtroppo gli incidenti sono all'ordine del giorno e noi ne abbiamo vissuto uno proprio un anno fa, il povero Alberto Motta, di cui è in corso il processo in questo momento e è stata accolta la Costituzione di parte civile da parte degli avvocati e dei genitori.